Questa mattina siamo stati a Caramanico Terme, insieme alla comunità, i genitori, gli alunni, i professori, i rappresentanti istituzionali dei comuni di quella parte della Maiella, per chiedere fortemente no all'accorpamento della scuola media. Dal 2024 la prima e la terza potrebbero essere accorpati per la presenza di sette alunni a Caramanico. L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi anche scrivendo all'ufficio scolastico regionale con una lettera che ho indirizzato proprio al direttore e l'abbiamo fatto anche in consiglio regionale perché ho depositato una risoluzione che riguarda Caramanico Terme ma che riguarda naturalmente anche la scuola di Castelvecchio su Beco e ho chiesto in questa risoluzione di conoscere quante altre scuole delle nostre aree interne, delle comunità, della nostra montagna potranno subire questo accorpamento chiedendo naturalmente al Consiglio regionale di intervenire e di fare in modo che tutte quelle deroghe previste per quelle comunità di montagna siano fatte proprie dall'ufficio scolastico regionale e sia salvaguardata un'istituzione così importante come la scuola.